Domina Caldarola dall'alto, ma la sua importanza supera i confini comunali e per questo, pur essendo di proprietà privata, la sua ricostruzione è considerata strategica. Prima del sisma il Castello Pallotta, con i suoi 40.000 visitatori e le suggestive iniziative che si svolgevano nei suoi antichi saloni, era un volano per l'economia del territorio, oltre che un simbolo della regione, fino alle scosse dell'atuno 2016 che ne resero necessaria la chiusura. Un danno stimato attorno ai 12 milioni di euro, con un accollo estremamente oneroso per la proprietà, oltre alle difficoltà burocratiche collegate al suo recupero. Ma ora, grazie all'ordinanza 116, molti problemi potranno essere superati, spianando la strada all'avvio dei lavori di recupero. Ci spera Luca Giuseppetti, il sindaco di Caldarola, che nei giorni scorsi ha incontrato il subcommissario per la ricostruzione Loffredo. C'era da gestire gli accolli, che non erano cifre leggere, siamo arrivati quasi agli sgoccioli, quindi alla fine, sperando che entro quest'anno questo discorso possa essere definitivamente chiuso e vedere ripartire il discorso del Castello nei primi mesi del 2022. È stato un percorso molto lungo anche per questo, perché le cose non erano proprio così chiare, perché appunto lì c'era la situazione che era del privato, quindi non era un'opera pubblica, però con interesse storico. E questo all'inizio non era stato valutato l'importanza. Un iter segnato da non poche difficoltà, quello del recupero del Castello Pallotta, la cui importanza dal punto di vista storico è stata appieno compresa dal commissario Legnini, che con ordinanze ad hoc ne ha riconosciuto il ruolo strategico. Quando parliamo del Castello Pallotta di Caldarola, è logico che non c'è una notorietà come quella di Gradara, però è importantissimo anche perché è un bel gioiello, è un gioiello proprio non solo di Caldarola, ma proprio come dicevamo adesso, della nostra regione. Ed è un peccato che abbia avuto questa situazione, purtroppo ancora questa lungaggine per poter partire, perché oramai sono passati cinque anni e sinceramente io mi aspettavo di poterlo anticipare.